Ciao! Ciao! Buongiorno, buon pomeriggio. Eccomi, stavo cercando di capire se si sente tutto bene, ma aspetto che qualcuno mi dia un segnale per capire se si sente bene. Ciao, chi si sta collegando? Non vedo ancora nessuno. Vediamo. Ci sono dei commenti. Chi mi dà un segnale, per favore? Buon pomeriggio, Iruni Laccica. Ti chiedo scusa se non lo so dire. Si sente bene? Si vede bene? Aspettiamo. Ciao Marisa! Ciao Margherita! Ah, si sente bene, mi dice Iruni. Bene, bene. Come state, ragazzi? Come va? Siete al mare? In che parte dell'Italia siete? In che parte del mondo siete? Siete a casa? Siete a qualche parte? Tanto aspettiamo un attimino. Si sente bene? Grazie, Marisa. Adesso sei tornato delle vacanze o sei ancora in giro? Qua? Si sente? Grazie, Margarita. Margarita. Io, secondo me, sono 16 anni che sono in Italia, ma non riuscirò mai a dire Margarita, perché in spagnolo è Margarita. Quindi chiedo scusa alle margheritte, che io dico margarita, non ce la posso fare. Allora, prima di tutto vorrei anticipare che questo è un argomento molto spinoso, profondo sud. Sardegna, che bello, Milano, bene, bene, bene. Allora, volevo anticipare che questo è un argomento molto delicato. Io parlerò su quello che la mia scuola di formazione è un'ottica completamente diversa da quello che noi siamo abituati, o quello che ci hanno fatto credere, da quello che è la famiglia o quello che è il ruolo del padre, ok? Bari, benissimo. Bene, invitate, sì, grazie. Invitate alle amiche che, secondo voi, può interessare a questo argomento. Condividete, se riuscite, per arrivare a più, per sapere che io vorrei arrivare il più genitore possibile, ok? Quindi, stavo dicendo, allora, che questo è un argomento molto delicato, perché oggi vorrei cercare di smontare un pochettino tutto quello che è il ruolo della famiglia e quello che è il ruolo del padre, ok? Sicuramente vado a toccare la sensibilità di qualcuno e se, bene, bene, ciao Raffaella, ciao Sara, se sente bene, benissimo, ok. Vado a toccare la sensibilità di qualcuno, però ci tengo a dire quello che io, Rossi Claire, in quello che io credo, ok? Come sempre dico, io non voglio convincere nessuno, quello che io dico non è la verità e il mio ruolo o quello che io vorrei essere per voi, sicuramente è un punto per portarvi a pensare e cercare di comprendere da soli, no, dove sono gli arcani, per dirlo così, ok? Quindi, la famiglia. Partiamo un attimino nel presupposto che la famiglia è stata creata, tra virgolette, per un interesse, un interesse molto specifico, ok? È il patrimonio, è il patrimonio, era quello che un uomo riusciva a creare a livello economico, creava, non so, quella dinastia dei soldi e l'unico obiettivo per l'uomo era creare, no, un eredero o una persona a chi lasciare tutto quello che era, no, il suo patrimonio. Nasce il patriarcado, perché il patriarcado viene del patrimonio, ecco perché nasce il patriarcado, cosa è, no, il patriarcado era quello che il papà aveva un patrimonio e il suo interesse di poter garantire, no, di lasciare questa cosa al suo figlio si crea il matrimonio, ok? Matrimonio che viene della matrice, della matrice, dell'utero, del grembo materno matrice, ok? Non so se rendo l'idea, ok? Perché in teoria il matrimonio garantiva che questo patrimonio andasse ai figli legittimi di questo uomo. Mi seguite? Ok? Quindi sono tutte cose da comprendere all'inizio, ok? Ci tengo a dire questa cosa perché? Perché la famiglia viene vista ancora oggi come che si fosse mamma e papà e il cagnolino in casa. No, la famiglia è una mamma e un figlio. La famiglia può essere due mamme, due papà, la famiglia è l'amore che può ricevere un bambino, ok? Ci tengo a dire questa cosa qua. Ci tengo a precisare perché io credo che il patriarcado e il matrimonio, ok? Prima cosa, sicuramente è stato una, come se puoi dire, una, non mi viene la parola, un reprimere sessualmente la donna. Perché la donna, in teoria, con il matrimonio, la donna era il corpo unico di quel uomo. Quindi, perché? Perché lui doveva garantire che quei figli che nascevano di quella matrice, quindi del matrimonio, di quell'utero, di quella donna, erano suoi figli. Che potevano essere sì, che non potevano essere, non si saprà mai. Ma in teoria il matrimonio garantisce che il figlio dell'uomo sia figlio, siano figli dei sangue suoi, perché così lui poteva lasciare il suo patrimonio a questi figli. Lo ripeto ancora, ok? Per chi si sta sovrastruttura. Sovrastruttura sì, ma volevo dire che era più come una repressione sessuale della donna, perché, ripeto, si pensava che l'uomo, l'uomo non si sapeva, ok? Ma la donna doveva essere fidela a quell'uomo, perché quell'uomo doveva avere dei figli a chi lasciare il suo patrimonio economico, ok? Che cosa succedeva con questo? Che se l'ha creato questo livello di, e l'uomo era superiore, e l'uomo era in alto, comandava perché la donna era per produrre i figli, ok? Poi passano gli anni, passano tutto quello che sappiamo, arriviamo al 2020, e purtroppo, purtroppo ancora si pensa che la condizione perfetta sia la famiglia, ok? Per un bambino, se crede, anche se il patriarcato, ok, continua a essere, ma no con il stesso meccanismo, e il patriarcato io lo sempre, lo vedo ancora, lo vedo come quel, io sono superiore e tu sei inferiore, e i figli ancora nascono sotto il patriarcato, anche se il fatto del patrimonio può essere in menore, diciamo, incidenza, ok? Quindi, il patriarcato era quel meccanismo dove tu sei superiore, tu sei qua, gli altri sono inferiore, e questo purtroppo ancora oggi i bambini lo vivono in casa, ok? Quindi, che succede? Allora, andiamo avanti. Che cosa è la famiglia, no? Secondo l'educazione rispettosa, secondo la mia formazione, io vengo della scuola di Laura Goodman, quindi tutto questo che sto raccontandomi, divulgando con voi, viene dal suo pensiero. Laura Goodman è una donna che si è dedicata a studiare, come tante altre, e sicuramente quello che è l'origine, il disegno originale dell'essere umano, per capire quali sono i bisogni reali di un bambino, ok? E perché è importante educare nel rispetto e senza violenza, ok? Quindi andiamo avanti. Lei spiega, e è quello che io promuovo, è che il bambino, l'unica cosa che ha bisogno come famiglia è sentirsi amato. Cioè, il bambino non importa del ruolo, non le importa il ruolo del padre, non le importa il ruolo della madre, il bambino ha bisogno soltanto di sentirsi amato, visto, capito, incondizionato, cioè la presenza incondizionale di un suo adulto del riferimento. Quasi sempre parliamo della madre, perché la madre è quella che è, però può essere una mamma adottiva, può essere una, diciamo, una nonna che si occupa del suo nipote senza la presenza della madre, occhio, sto parlando senza la presenza, mettiamo che purtroppo questa mamma è morta e questo bambino rimane in braccio alla nonna, ok? Lo che importa per il bambino è crescere nell'amore, sentire che questa persona che si sta occupando di lui, ok? Lo capisce, lo vede, lo accoglie, lo fa sentire amato incondizionalmente, incondizionalmente, lo ascolta, ok? E non lo giudica. Però, se va avanti, sempre dico, ok, che famiglia può essere anche una famiglia monoparentale, quindi la mamma con suo figlio. L'importante è che questa madre sia consapevole di tutto il lavoro che deve fare dentro di sé, di tutto il lavoro che deve gestire della sua infanzia e che questo bambino ha bisogno di una madre che si metta in discussione e cerche la consapevolezza di quello che realmente sono i suoi vuoti. Perché purtroppo, anche se la gente pensa, eh no, perché io sono grande, ormai l'infanzia è passata, io sono cresciuto bene, no, purtroppo la nostra infanzia è quello che ci fa reagire ogni giorno in un modo piuttosto di un altro. L'emozione che noi abbiamo accumulato dentro di noi è quello che ci fa reagire oggi come adulti. Quindi non si può pensare che senza conoscere la mia infanzia, senza conoscere la mia storia, io posso andare avanti a far finta di niente. Io posso avere tutta la buona intenzione, ok, di essere la madre più amorevole del mondo, ok? Ma se io no, come base, una conoscenza della mia storia, io andrò a fare le stesse errori, le stesse, non lo sappiamo, vado a continuare la stessa cadena che della violenza, perché la violenza non è solamente picchiare il bambino, la violenza può essere anche ignorare un bambino, la violenza può essere semplicemente lasciare fare il bambino quello che vuole, perché anche l'assismo è l'altra parte della medaglia, ok? Quindi andiamo avanti. Immaginiamo che, vabbè, la famiglia monoparentale, c'è solo la mamma o magari c'è solo il papà, ok? Ma adesso parleremo delle due situazioni, ok? La mamma, che succede? Che purtroppo noi oggi, nel 2021, nasce un bambino e purtroppo questo bambino nasce, e purtroppo, dico purtroppo perché è così, nasce senza tribù. Noi abbiamo bisogno, la madre ha bisogno di un intorno che dia, ok? Un supporto a questa neomamma, ok? Ma che succede? Immaginiamo che questa mamma è sposata con un marito, ok? E che questo marito è lì, con le sue vuoti, con le sue storie, con le sue insegurezza, con tutto quello che possono essere i suoi ricordi o i suoi trama dell'infanzia, e allora è lì, no? Immaginiamo che c'è il papà e c'è la mamma. La mamma, appena nasce un bambino, è bombardata di un cottole ormonale che la porta sicuramente a abbracciare, a vedere, a curare, a proteggere il suo cucciolo, ok? E questo marito, poveretto, dico poveretto perché a volte veramente sono in difficoltà, questo marito si transforma in quella tribù che la mamma vorrebbe. Quindi la mamma tende a chiedere al marito tutto quello che lui fa fatica d'arte, perché lui non è la tribù che tu hai bisogno, lui è l'uomo che è lì, ok? Che è emozionato, tanto sicuramente confuso per questo cambio quando arriva un bambino, ok? Quando io, mamma, sono desperata perché non ho chi consultare, perché non ho una zia, una madre, un'amica, una dulla, qualcosa che mi accompagni a vivere questo cambiamento, io pretendo del mio marito cose che non può darmi, ok? Poi, questo è una realtà, può essere anche l'altra donna, no? Parliamo di famiglia omosessuale, dove sicuramente ci sono due mamme, c'è la mamma che accudisce, che dona tutta quella entrega, quella consegna di anima che dobbiamo dare ai bambini, perché i bambini in un'altra ci chiedono di entregare l'anima, perché è un momento d'intimità, non esiste nella nostra vita un momento così intimo come può essere il momento di stare in contatto con il nostro neonato. Quindi, allora si trova l'altra persona in difficoltà, perché chi assume questo ruolo di accudimento completo per questo neonato, l'altra persona comunque deve compensare quello che la tribù non può dare, scusate, che la tribù non dà, perché non esiste, siamo sole, siamo sole, ok, andiamo avanti. Quindi, c'è questo papà. Partiamo dal presupposto, ci conosciamo, una donna conosce un uomo, o una donna conosce una donna, come la vogliamo mettere, ok? E ci innamoriamo, l'innamoramento è quella attrazione sessuale che sentiamo, ok? Ma che non è amore, non è amore, la attrazione sessuale non è amore, dura anche poco, dura un anetto, un anetto e mezzo, anche due, top. Poi dopo, per me l'amore sarebbe quello che è accompagnare l'altra persona a raggiungere la sua evoluzione partendo da me, insieme a me, no? Però noi veniamo, ripeto, con delle storie proprio pesante, vuote, storie importanti della nostra infanzia. Allora, ci troviamo questo uomo, questa donna, che ognuno ha i suoi buchi, ognuno ha i suoi vuoti, e allora quando siamo tutti e due tranquilli, che siamo abbastanza, diciamo, ognuno con le sue interesse, ognuno lui compensa a lei, lei compensa l'altro, perché, vabbè, lui mi fa sorridere, vabbè, comunque lui mi fa sentire protetta, lui mi fa sentire divertita, lui mi fa sentire così, lui mi fa, no? O anche lui dice, no, lei mi fa sentire così, lei mi fa sentire cosa? Allora, sono delle condizioni che se possono esposare, siamo tutti d'accordo, siamo tutti da festa, perché uno compensa l'altro, e i suoi propri vuoti, ok? Che non è la parte sana della relazione, perché noi dovremmo, e in teoria, se arriviamo, se noi educhiamo con rispetto una personcina che arriva all'adulto, e in teoria questa persona sa amare in modo incondizionato, ma nessuno di noi sa amare in modo incondizionato, perché purtroppo non l'abbiamo mai ricevuto, nessuno, 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 perché ci ha mancato il corpo materno, perché ci ha mancato amore, entrega, come si dice entrega in italiano, ci ha mancato il tutto, no? Del nostro genitore e del nostro adulto di riferimento, allora noi cresciamo con queste vuoti, vuoti, ripeto, di insegurezza, vuoti possono essere mille. Allora, questa coppia si unisce, va bene, va benissimo fino adesso, nasce un bambino, ok, per motivi strani, no? Perché ci sentiamo innamorati, pensiamo che vogliamo dare vita, c'è questa cosa strana, diciamo istintiva, questo desiderio, no? Di dare questo amore, no? Di sentire che quello che stiamo vivendo è così bello che vogliamo anche donare, no? Questo amore a un'altra persona. Se suppone che è questo. Allora nasce il bambino e allora la mamma diventa l'allunesta che protegge questo bambino. Io a volte rimango un po' perplessa perché quando dicono eh, io però non posso sicuramente trascurare mio marito, perché? Perché sappiamo che purtroppo tanti matrimoni o tanta coppia si bastano unica e esclusivamente in compensare quello che l'altro le manca. Quindi se io trascuro mio marito, quello lì scappa via, no? Perché io non sto compensando più quello che a lui manca. I vuoti suoi, che sono un problema suoi. Allora io mi trasformo in la che compensa, in la che dà a lui quello che aveva bisogno. Quindi io devo dare. E quindi a volte se ritrova una situazione, lo sto criticando, però ci sono situazioni dove la donna piuttosto di dare la entrega o quella ui, non mi viene la parola, quella quel momento importantissimo per il neonato che è H24 stare con sua madre, allora io non posso trascurare mio marito perché mi abbandona per un'altra, no? E questo è più o meno la paura che si sente quando si dice che il bambino dorme nel lettone con la mamma e il papà oh mamma mia se distrugge il matrimonio, no? Però andiamo a pensare un pochettino realmente che cosa è il tuo matrimonio, andiamo a pensare dove, quali sono le basse del tuo matrimonio, ok? Perché quel momento in cui nasce un bambino e il papà si sente automaticamente messo da parte su un comportamento completamente infantile. Non è perché nasce e il bambino allora l'altro si è messo da parte perché questo bambino non è che l'ho fatto con l'aria è tuo anche, no? Però che succede? Che succede nel maschio? Che succede in questo cambiamento della donna? Perché la donna cambia e chi non lo vuole accettare e chi non accetta questo cambiamento purtroppo a volte se parla di depressione postparto se parla di magari baby blue se parla di tante cose ma Laura Goodman spiega che è il negare il cambiamento che arriva con la maternità ci porta in una lotta dentro di noi che entriamo in depressione perché io non accetto quello che mi sta arrivando quello che la vita mi sta dando io non so gestire un bambino richiedente demandante non so come si dice altamente di richiesta perché lui mi richiede quello che io non riesco a dare in questo momento perché io non so dare quello che non ho ricevuto questa è una parentesi quindi arriva questo papà si mette un po' disparte un po' magari la donna repito entra in una sorta ormonale un cotto l'ormonale che non si può gestire perché è più forte di noi e allora si dedica esclusivamente questo non atto e allora il marito inizia a chiedere no e allora inizia nel brutto umore inizia sicuramente quando il bambino è intorno a due tre anni che sono veramente richiedono tantissimo e e l'uomo se non è maturo se non riesce a vedere che la che il bambino ha bisogno di un papà che si mette in discussione un papà consapevole che sappia e accetta il momento che sta vivendo la madre o la moglie in questo caso ok e il bambino ha bisogno di un papà in questo momento è presente molto presente per la mamma per essere sopporto alla mamma ok perché è l'amore del papà verso il bambino e traverso la mamma attraversando l'amore per la donna quindi quando l'uomo vede a sua moglie lattando un neonato lui vede una cosa unica no perché vede il bambino è in fusione con la sua donna con la sua donna con la sua moglie ma che succede quando questa donna ok entra in conflitto con questo papà perché tu non me dai perché tu non me dice perché tu non me fai perché questo perché questo perché questo lui entra in difficoltà perché non sa darte quello che tu stai chiedendo ripeto perché ci manca la tribù ok quindi lui si allontana automaticamente di questa donna e del bambino spessissimo succede che si allontana anche del bambino no perché ripeto è l'amore del padre nasce attraverso del corpo maternante vedere la donna come accudisce questo questo neonato questo bambino sto parlando anche i bambini di 3 4 anni ok quindi e spesso succedono succedono situazioni dove si separano perché magari non si sa non siamo riusciti a compensare nei nostri vuoti non siamo andati d'accordo non ci ha funzionato più quello che ci siamo detto all'inizio perché poi noi ci sposiamo ci accoppiamo per inganno perché in realtà ognuno va a cercare quello che le manca e l'altro cerca in noi quello che le manca a sé quando io non le do più quello che le manca allora la persona l'altra persona si sente proprio no come che non mi ami più allora io ho bisogno di continuare a cercarlo quello che mi manca quando in realtà noi dobbiamo lavorare per poter arrivare alla consapevolezza di non chiedere a nessuno di quello che ci manca ma lavorare dentro di noi per arrivare a quel punto di maturità ok no entrega no scusami se mi parli rimane distrato si rimane distrato se mi parli entrega è consegna quando tu ti dai a quella persona no entrega quando tu entreghi qualcosa non so come ah non mi viene la parola in italiano però quindi che succede che allora quando il bambino richiede tantissimo allora mi dicono ma Rossi ma quindi qual è il ruolo del padre il ruolo del padre qual è qual è il ruolo del padre il ruolo del padre è amare in condizione amare questo bambino ed è conseguenza no sopportare emotivamente la donna alla madre perché il bambino è l'amore quando sono piccoli veramente l'amore del padre passa attraverso la madre se la mamma si sente serena se la mamma si sente sopportata di questo papà ok perché la madre adesso metto l'esempio no la donna è in mezzo un bambino che ciuccia di questa parte e un papà che ciuccia dell'altra parte è come se avessimo no la richiesta perennemente di due persone uno che fisicamente ha bisogno di noi H24 e uno che emotivamente ha bisogno di noi ecco perché creppano i matrimoni non perché arrivano i figli certamente che i figli mettono in difficoltà una coppia perché solo i figli riescono a tirare fuori la nostra debolezza a tirare fuori i nostri vuoti a tirare fuori quello che ci manca e ci porta a renderci conto che purtroppo anche se io pretendo dell'altra persona che mi dia quello che mi manca non funziona così sono io che devo lavorare per poter riempire i miei vuoti sanare le mie ferite non posso aspettare che lo faccia un'altra persona al posto mio ok quindi quando l'uomo vede che la donna mette in mezzo nel letto il bambino perché si rende conto che magari dormire tutta la notte con il bambino è meglio perché così riposo di più perché al lato e nel letto o come volete fare magari ho il biberon di fianco è più facile di me tenerlo vicino che alzarmi ogni volta andare in una cameretta mettermi sulla donna allattarlo poi dopo metterlo di nuovo quindi iniziano quando no perché ripeto siamo sempre bambini in corpo d'adulto quindi iniziamo con le nostre paure oddio se io mi metto il bambino nel letto allora ho paura che lui vada via perché lui no 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 questo non dovrebbe esistere una copia consapevole immatura si crolla il matrimonio non è colpa del bambino non è colpa che il bambino richiede la madre è che noi non siamo non abbiamo avuto la possibilità di evolvere insieme come coppia e evolvere individualmente come persone ok quindi non è il bambino che mette in difficoltà la coppia sono le nostre mancanze la nostra base così fatta su su sabbia su foglie secche non lo so come se puoi dire fatte su su dei paletti su dei stuzzicadenti debole debole dobole che qualsiasi coppia crolla quindi attenzione ragazzi se io mi lascio perché poi la difficoltà che mi arriva delle mamme che mi cercano per le consulenze è questa mi arriva la difficoltà perché mi sento tirata di una parte perché mio marito si sente trascurato perché mio marito si sente così perché mio marito si sente cosa ma io dell'altra parte vorrei anche stare vicino al mio bambino e allora io ho paura perché mi hanno detto che i figli vanno via e il marito che rimane per sempre perché questo è un altro discorso che dobbiamo affrontare un inganno sociale incredibile è vero i figli non sono tuoi l'unico l'unico essere umano che ti fa sentire senso di no appartenenza al tuo figlio perché no ti appartiene ma lui è nato con bisogno il tuo bisogno di appartenenza a lui perché in base a come tu ti senti ok capace di dare a lui tutto quello che richiede perché il bambino deve sentirsi amato e il bambino non si deve abituare che tu non ci sei non si deve abituare che tu sei stanca no sì possiamo liberarci un momento del bambino ma non può essere la condizione costante il bambino non può sentire che deve pregarte per sentirsi amato tu devi dare no? tu devi dare mi dispiace è così quando sono piccolo tu devi dare punto ah mi stavi dicendo che non posso rifare la mia vita la tua vita la stai rifacendo come madre poi piano pianino quando il bambino inizia a volare verso tre anni che inizia a essere molto autonomo anche un po' prima non è detto ognuno c'è il suo io posso iniziare ok a prendermi i miei spazi professionali tutto quello che vuoi ma purtroppo i primi io metto due barra tre anni di vita di un bambino piccolo ha bisogno di noi ok quindi qual è il ruolo del padre qual è il ruolo del padre è occuparsi del bambino H24 come lo fa la madre se il bambino vuole e ci sta volentieri con questo papà e questo papà gli dà tutto l'amore e lo fa sentire amato e lo fa sentire ben venga ben venga lui al bambino non gli importa chi è il papà chi è la mamma questo sono cavolata che ci inventano no ci sono due mamme ci sono due mamme ci sono due papà ci sono due papà ci sono due persone che danno amore a questo cucciolo è l'unica cosa che le importa ok però è vero anche quando parliamo di una coppia eterosessuale ok è vero che il papà deve entrare in contatto con questo neonato per poter sviluppare ma se questo succede unicamente si con la sua donna sta bene se c'è una intesa con questa sua compagna di vita non so se rendo l'idea quindi io poi mi capita no io sono incavolata perché io sono separata allora quando lui le tocca al weekend con mio figlio dove va a casa della madre ma meno male che va a casa della madre perché purtroppo l'uomo quando il bambino sono piccolo sto parlando di bambini piccoli ok quando i bambini sono piccoli hanno bisogno di passare attraverso di un corpo materno se in questo caso è la madre del papà e lui lo porta tutti i weekend a casa della sua madre va benissimo l'importante è che questo bambino si senta accolto del papà e anche della nonna ok quindi non c'è un ruolo ognuno ogni famiglia ogni realtà ogni universo deve ok far sentire amato la famiglia è far sentire amato il bambino non amare il bambino far sentire amato il bambino sono due cose diverse io posso amare mio figlio ma non lo faccio sentire amato sono due cose diverse io devo far sentire amato il bambino quindi che il ruolo del papà che il ruolo della mamma che il lettone che qua sono tutte cose che noi usiamo perché la società ci ha fatto credere che il patriarcado dovrà rimanere perché il patriarcado e l'uomo non può cercare un'altra donna quindi tu devi coprire con il tuo dovere di donna il dovere di donna perché nasce del matrimonio perché il patriarcado ti dice che tu devi dargliela tutte le sere scusate il francesismo non vorrei essere così poco elegante però a volte ci sta no? Non è il sesso e il matrimonio o l'amore non dipende di un rapporto genitale penetrazione coito non dipende di quello se abbiamo voglia di sesso genitale allora possiamo andare anche in bagno possiamo andare sul divano possiamo andare nel solaio possiamo andare dove ci venga la voglia ok? Ma il sesso fare l'amore è altre cose e accompagnarci e che il papà è il ruolo del papà in questo caso è vedere accogliere la donna la donna a volte quando spesso no a volte no direi sempre quando ha appena nato questo bambino una neomama ha bisogno di fare sesso di fare l'amore ma senza penetrazione ok? La donna ha bisogno delle braccia del papà ha bisogno del sopporto del papà vieni amore vieni qua ha bisogno di coccola di coccola di carizia ma no ha voglia di fare sesso genitale io ho voglia che tu mi coccoli ho bisogno che tu mi dai questa tua protezione del maschio no? Ma no sempre non è detto perché ci sono le donne io non è il mio caso ma ci sono le donne che questo ormone la fanno sentire più viva e benvenga sì la cosa è ok così ma io non lo so particolarmente io e tante esperienze che conosco la libido cala tantissimo quindi noi dobbiamo anche parlare questo con i nostri compagni se io mi sento se io mi freno se io sento che non posso parlare con mio compagno se io ho paura di dirle questa cosa allora me devo fare due domande con chi sono? io ho paura di dirle questa cosa a mio compagno con chi mi sono sposata? allora in base a cosa mi sono sposata se io ho paura di dirle quello che sto provando quindi ma Fabio aspetta c'è un papà bellissimo ma io come papà sbaglio spesso in tutti i campi voglio fare di più ma bellissimo questo papà ma viene che ti do un abbraccio ma cosa vorresti fare ama la tua donna ok e guarda il tuo cucciolo come quello che ha bisogno e merita amore sull'educazione ne possiamo parlare dopo 5-6 anni nei primi anni di vita il bambino va accompagnato va guidato non va mai punito no la punizione non si usa mai però non va punito non va mai scrittato non va picchiato non va mortificato non va mai umiliato vuoi fare di più? lavora dentro di te quando ti vengono che magari non è il tuo caso ma quando ti viene la rabbia e che tu vorresti picchiare il tuo figlio ok capisce che quella rabbia non appartiene il tuo figlio appartiene solo al tuo bambino interiore non a tuo figlio quindi vorresti fare di più? dire a tua moglie che la ami di morire che è bella quando lei si sente brutta che è spettacolare dire che è una bravissima mamma anche se la parola brava non mi piace dire che che bel figliolo che mi hai regalato dire queste cose alla tua donna vorresti fare di più? falla sentire speciale a lei falla sentire che il ruolo che sta portando avanti in questo momento è la cosa più preziosa che tu puoi avere fra le mani non ci vuole un granché ci vuole dire amore hai bisogno un bicchiere di agua quando sta allattando amore ti ho preparato la cena amore sono andata a fare la spesa questo questo ha bisogno la donna quando ha un bambino un neonato un bambino piccolo fra le mani poi di conseguenza la donna si rilassa si sente tranquilla ok e magari sessualmente genitalmente parlando genitale ok la cosa fluge entra in un flusso più tranquillo quindi è un circolo virtuoso che dobbiamo creare ma questo si deve creare purtroppo con la comunicazione ripeto se io non riesco e io non sento che posso comunicare con mio compagno su quello che io sto provando io mi dovrei fare due domande io non mi devo fare la domanda se il mio bambino dorme nel letto questo non dovranno essere i problemi della coppia io ci ho passato lo sto raccontando perché ci ho passato questa roba questa confusione male perché io non mi sento così ma perché sento che tu non mi guardi più perché entrava in questo dubbio e allora io avevo bisogno della sua rassicurazione erano le mie insegurezze le mie insegurezze che mi portano a chiedere rassicurazione e una persona che anche per lui è tutto sconvolto anche per lui è stato un po' un cambiamento perché io ero H24 in compagnia con lui e dopo si è ritrovato che non mi vedeva più sino sempre con con questo collo in giù a guardare questo neonato però si lavora e l'amore ripeto è quella capacità di accompagnare l'altro verso la sua evoluzione personale e la evoluzione ed è coppia non è giottiamo si mi dai giottiamo si tu mi fai giottiamo si tu mi dai questo è è amore adolescenziale nel family training parliamo dell'etappa dell'amore dell'etappa dei ragazzi di 0 a 21 anni a proposito sono aperte l'inscrizione per il family training e i posti sono limitati partiamo il 21 settembre questo gruppo già si sta formando quindi vi invito a partecipare anche al 6 7 8 3 masterclass gratuite e dovete iscrivervi per poter entrare al gruppo privato dove si tranno queste 3 masterclass gratuite quindi torniamo noi Fabio c'era qua un papà ok Fabio hai capito quello che ti ho detto e speriamo magari ogni donna merita questa tenerezza e gratitudine sì perché siamo sole siamo sole purtroppo siamo sole una volta avevamo l'amica la sorella la sorella che ti diceva dai che ce la stai facendo dai perché poi la gente confonde ho bisogno della tribù per lasciare mio figlio con chiunque no ho bisogno della tribù per sentire che una può lavare i piatti l'altra mi può far demangiare l'altra mi può fare la lavastoviglia l'altra magari può fare il bucato e io non mi devo preoccupare sino unicamente del mio bambino poi logicamente se io ho bisogno di farmi una doccia e respirare un'ora senza il mio nato attaccato a me perché ci sta magari ho bisogno anche della nonina che si occupi di questo ok ma no non è che io no perché poi mi fa sorridere un po' perché la mia mamma si ritrovano la socia in casa e le dicono ma dai dammi il bambino te lo tengo io tranquilla vai a fare le tue cose no 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 lei ha bisogno di poter stare con il bambino sì ti dice guarda tienilo tu perché sono stanca è un conto ok ma ha bisogno che le vai a fare una una lasagna che le fai dieci chili di ragù congelato ha bisogno di ok che le stenda i panni ha bisogno di questo ecco perché dopo i bambini vanno colpevoli saldi perché le madri sono stanche non è il problema del bambino è il problema di tutto quello che deve fare una mamma ecco il ruolo del padre dove è il ruolo del padre è condividere tutto il resto che c'è fuori però purtroppo ripeto come ho detto all'inizio e spesso noi pretendiamo tantissimo di questi papà ok perché ci manca la tv ok quindi attenzione con la confusione di che il padre deve essere presente perché deve essere sì è importante questo ragazzi o che non so dicendo che questo non sia importante è importante ma non deve essere è il nostro per me l'unico importante è che il bambino si senta amato il bambino si deve sentire benvenuto a questo mondo deve sentire che il mondo che è arrivato è il mondo giusto che è arrivato in un posto pieno d'amore per lui quindi che ogni famiglia ha i suoi accordi magari a me non mi interessa che il mio compagno mi lava i piatti perché mi dà fastidio perché io preferisco lavare i piatti a mio modo perché a me mi dà fastidio le macchie di calcare sul cucchiaino però ho bisogno che comunque lui mi dica sono qua sono qua come posso fare repito sia il neonato o il bambino piccolino o il bambino di 2-3 anni ci va volentieri con il papà benvenga ma per poter creare questa volontà e desiderio del bambino piccolo stare vicino al papà il papà si deve lavorare cioè deve entrare deve entrare in questa ok in questo meccanismo come il bambino si deve prendere cura del bambino se il bambino lo permette ma se il bambino sta piangendo per la madre mi dispiace ma il papà si fa da parte e la madre prende il bambino perché se il bambino vuole la mamma si dà la mamma non si obbliga il bambino a stare con un altro poi se deve lavorare pazienza sappiamo che non possiamo arrivare a tutto ma dobbiamo essere consapevole che quello che richiede il bambino è quello che dobbiamo darle non modificare il bambino in base a quello che io ho ok penso che devo darle non so si come si fa a far sentire amato il bambino accettandolo come è accogliendo le sue richieste facendolo sentire che quando piange io ci sono facendolo sentire che quando ha paura io ci sono facendolo sentire che se mi chiama io ci sono accettare la sua essenza non modificarlo non modificarlo solo che questo è un lavoro molto molto pesante io sempre dico che non so se riusciremo mai imparare a amare in condizione non so se riusciremo a far sentire 100% amati i bambini perché loro sono troppo 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 perfetti sono troppo 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 intelligenti loro precipiscono anche la nostra emozione anche la nostra sensazione io posso accogliere il mio bambino dire che dummarone non ce la faccio più e lui anche se tu non lo stai dicendo lui lo sta sentendo quindi non ti sto dicendo che tutti arriviamo è stanca è difficile però deve sentirsi di più è il più possibile accolto e sicuramente è accettato per quello che è per quello che è per quello che è senza dover sentire sentire che lui ha sbagliato e che deve cambiare perché così fa contenta la mamma molto difficile questa domanda ok non sempre si riesce a essere presenti con il cuore con il proprio figlio è difficile Fabio però l'importante è iniziare è difficile e se non riusciamo il bambino ha il diritto alla verità c'è un mio video nel canale YouTube dove dice il bambino ha il diritto alla verità quindi se tu un giorno sei nervoso le puoi dire a tuo figlio amore oggi sai che ho avuto una brutta figura una brutta giornata al lavoro sono un po' stanco un po' nervoso mannaggia posso dirlo anche a mia compagna posso dirlo alla mia fidanzata alla mia moglie le posso dire amore oggi mi sento ok dopo lei ti dirà ma io che sono H24 la sola in questa casa come un bambino che piangia tutto il giorno e allora lì entriamo un po' in caos perché in realtà è duro è duro essere a casa con un bambino e il problema è che quando la cosa diventa troppo troppo pressante per la donna è lì che io devo lavorare è lì ragazzi in quel momento che io sento che non le posso dare a mio figlio quello di cui ha bisogno io lì devo dire cosa mi sta succedendo c'è qualcosa che non va perché io non posso dare quello che perché io mi sento così succiata succhiata di questo bambino perché io perché io mi sento male a dover stare con mio figlio è lì che dobbiamo capire che cosa sta succedendo Laura Goodman usa l'esempio del piatto questo succede spesso quando noi abbiamo ricevuto poco è come se io ho un piatto con brisciole poca roba da mangiare allora io non posso permettere che un altro venga a robarmi la poca roba che ho nel mio piatto perché io sono in allerta sono sempre no così con le unghie fuori a defendere la mia brisciola di cibo che ho ma queste brisciole è quelle che abbiamo ricevuto dai bambini no adesso che nasce un neonato che ha bisogno di mangiare da noi ok del nostro piatto io le dico no no te do le mie brisciole non posso no io devo lavorare per dire come mai io non posso riempire il piatto a mio figlio per darle quello che io non so si rende l'idea si rende l'idea un po' questa questa metafora questo esempio ok quindi io ecco perché a me fanno sorridere tutte quelle persone che combattono contro il bisogno dell'adulto perché non si può pensare sempre nel bisogno del bambino certamente di no anche io ho bisogno no ma i bisogni del bambino sono primordiali primordiali hanno bisogno di te perché senza di te non sopravvive e il mio bisogno posso anche distirmelo se non sono consapevole se ho lavorato dentro di me io so che in questo momento questa cosa io adesso Rosiclare un attimino mi metto in pausa non succede niente non succede dopo il reparto è intanto la mia in questo momento il mio momento scusate il mio come se puoi dire sì è il momento in questo è il momento adesso è del mio figlio non è il mio momento di chiedere il problema è quando noi siamo adulti continuiamo a chiedere ecco perché io mi devo fare due domande poi repito ragazzi ognuno a casa sua fa quello che sente meglio e fa sicuramente quello che riesce ma ci vuole la volontà per arrivare a una consapevolezza la volontà è importante per poter dire aspetta un attimo c'è qualcosa che non va dopo che io parto con la mia intenzione ok con la mia buona intenzione di capire allora io devo raggiungere la consapevolezza che io faccio così per questo per questo per questo e allora lì riuscirò a poter parlare con il mio compagno riuscirò a non avere paura che scappe con la prima donna perché io non le la do tutte le sere riuscirò a accettare che il mio bambino vuole dormire nel lettone con me si va bene si va bene a casa vostra non sto dicendo che lo dovete fare occhio ok però dobbiamo smontare questa roba perché io non posso trascurare il mio marito perché dopo no la donna cioè la donna non trascura il marito nel momento in cui il marito ok fa sentire la donna curata è un circolo virtuoso se non riusciamo a comprendere questo circolo virtuoso è perché la nostra maturità rimane sempre a quell'estadio infantile dove io chiedo 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 ma io non so darti come moglie come marito perché anche delle due parti no solo che succede che purtroppo è l'arrivo di un figlio spacca in due la donna no la sconvolge la del primo giorno del primo momento che sai che sei incinta la tua vita cambia la tua percezione della vita è un'altra lui la vive dopo che nasce il neonato no quindi la nostra trasformazione arriva molto prima che quello che può essere la trasformazione del papà e io sono contente quando vedo papà che dicono ah io me coccolo la mia bambina e la mia mogliettina me la metto nel lettone perché per noi per me è una cosa meravigliosa ho i papà che dicono per me è bellissimo dormire tutti e tre insieme per me è bellissimo stare tutte insieme per me è come se fosse una cosa più bella di questo non c'è quindi tu vedi lì la capacità dell'uomo di appreziare anche questo nucleo questo nucleo familiare che mi fa sentire sassio anche a me perché è un uomo maduro che non sta chiedendo per lui sino che sta dando per sua moglie per sua compagna e per i suoi figli come state ragazzi io non ho lissetta bella ciao lissetta io da una notte sigo che bello come state come state vuole sapere cosa ciao laura felice di ascoltarti di partecipare a questo dire bella donarsi abbandonarsi aspetta donarsi sì donarsi giusto verissimo ogni donna ogni donna merita questa tenere si sono qui francesca noi papà dobbiamo mettere limiti agli esterni abbiamo solo paura come fabio spieghiamo un attimo questa cosa è molto bella io sempre faccio questa immagine vi porto questa immagine per me il papà dovrebbe essere come il leone immaginate la leonessa che parturisce quattro cucciole dentro di questa tanna io mi immagino il papà leone che non credo che succeda perché nella vita reale le leonesse si proteggono fra loro fra le sorelle immagino il leone che va intorno a questa tanna a proteggere che nessuno venga a disturbare la mamma e il neonato che stanno lì questo papà che protegge questa coppia che la mette in una condizione di serenità per poter entrare ecco la maternità è un momento di intimità molto pesante molto potente e unico quindi ecco sarebbe bello che come dice Fabio che il papà protegga questo momento che lascia la serenità alla madre di poter donarsi a questa richiesta di questo neonato io non credo che esista una cosa più istintiva e sessuale che il momento di un neonato questo corpo a corpo perenne costante questo odore questo respiro vicino al neonato questo è troppo intimo troppo potente questa roba quindi io ho scritto un post che verrà pubblicato domani dove parlo della immagine che abbiamo come mamma quando siamo piccolina cosa ti regalano un passeggino un bambolotto con un ciuccio e un biberon io vorrei che i giocattoli fossero di grandi bambolotte con delle fasce che le bambine imparano a portare che i bambini maschi parlo di maschi imparano a portare anche quando sono piccolini che si prendono cura di questo che eliminiamo i passeggini il ciuccio il biberon non sto parlando male del ciuccio il biberon perché mio figlio ha preso il ciuccio il biberon quindi però la immagine che noi portiamo avanti quando cresciamo è proprio che per far essere mamma ci vuoi un passeggino un ciuccio adesso adesso vedo che i giocattoli hanno il lettino che si attacca al letto questo già è positivo già mettiamo la consapevolezza delle bambine che i neonati dormono con la mamma nel lettone quindi è una cosa positiva ma se io immagino veramente noi abbiamo una media qua non so dei 35 anni io ho 43 ma immaginiamo che c'è una media dei 40 anni qual era il nostro giocattoli? Passeggino biberon non c'era niente vero in quella roba non c'è niente di vero in quella roba la maternità non è il passeggino i biberoni il ciuccio c'è altro c'è altro che dobbiamo trasmettere alla nostra bambina quando stanno crescendo c'è la cura c'è il donarsi a questo bambolotto no? a me Rossi non possiamo farle capire questo alle bambine no però dobbiamo smettere con questo stereotipo che il bambino sta bene nel passeggino e sembra ironico che quando siamo incinte la prima cosa che andiamo a vedere è il passeggino che andiamo a comprare che sia leggero che sia trasportabile che non so che e a volte questo passeggino ci sembra che ha dei chiodi perché il bambino non lo vuole non vuole stare lì allora iniziamo a fare un corso del portare usare la fascia andiamo a conoscere le fasce quali sono le migliori andiamo a cercare una consulente del portare che magari mi spiega come è che faccio per portare il neonato H24 attaccato al mio corpo ma come sì perché il bambino ha bisogno di vicinanza quando io faccio una passeggiata con un bambino nel passeggino non sono vicina poi dopo la gente mi dice Rosi ma io faccio le girete con mio figlio tutti i pomeriggi non puoi dire che non sto con mio bambino io sto due ore a passeggiare con lui ma dove è il bambino le chiedo e nel passeggino no per lui no per lui è staccato di te quindi quando arrivi a casa lui ti richiede ancora perché è stato due ore lontano di te solo che si rilassa perché il passeggino si muove e questo crea nel bambino un rilassamento ma non vuoi dire che sia contento e sia sassio di te quindi quando rientri a casa dopo quella due ore di passeggiare che tu sei stanca perché hai spinto un passeggino per due ore quando arrivi a casa il bambino si vuole attaccare a te H24 perché quello non è bastato perché quello non è vicinanza se io passo ok faccio una passeggiata di mezza ora con la fascia e il bambino si sente lì attaccato alla mamma questo perfumo questa pelle questa cosa e allora quando rientra a casa magari il bambino può stare anche dieci minuti da solo a fare girare perché è sassio della mamma quindi vedete come no vediamo le cose è difficile di comprendere che l'unica cosa che ha bisogno di un bambino è un papà vicino che accette la richiesta di vicinanza alla madre e al proprio papà e una mamma che faccia sentire il bambino che è arrivato al posto giusto ok se sono invadente sì dobbiamo mettere Francesca Lupo dice sì a quelle cose come è ah vedi Raffaele ha risposto non sempre si riesce ad essere presente con il cuore con il proprio figlio lui non ha colpa cerca piano piano di modificare questo tuo modo di essere sono sicura che se ami tuo figlio ce la fai Eleonora le risponde a Fabio che bello ciao Lisetta adesso te leggo ancora io e mia moglie ci confrontiamo sempre per amore grande Fabio chi è tua moglie dimmi dimmi chi è tua moglie Fabio vieni a fare il family training che ti piacerà è un casino vedrai quanta roba che c'è dentro non puoi immaginare quanta roba c'è dentro allora sì infatti io non voglio che mio figlio vada nel lettino commossa per la tua parola grazie Lara non smetto di piandere Francesca amore perché mi apri la testa quante cose sto imparando con i tuoi video grazie Elena condividelo condividelo grazie 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 davvero questa è la mia unica funzione io sono qua e cercherò di essere ogni venerdì per portare insieme guarda dovete arrivarci da soli ecco questa è la cosa importante mio marito è stato l'unico a accompagnarmi lungo tutto il percorso dell'elattamento mi ha sempre sopportata che bello mi ha sempre sopportata come moglie e come mamma e come donna le sono molto grata anche se lava poco i piatti non importa devo raccogliere la vastoviglia allora mi ha fatto ricordare una volta quando anche mio compagno anche mio compagno è stato l'elattamento è stato travagliato molto travagliato per me io ho sopporto tanto per l'elattamento perché non partiva questo latte io ci tenevo io volevo 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 e allora lui quando quando andavamo al ristorante che facciamo lui mi portava il tiralatte e mi diceva vuoi tirarti un po' di latte che così perché il bambino dormiva allora lui mi diceva vuoi il tiralatte e lui mi accompagna io stavo lì con il tiralatte perché se il bambino dormiva magari ci aveva le tette piene così noi non facciamo vabbè comunque c'erano queste cose che che anche per lui è stato il ristorante anche per me è stato un supporto importantissimo perché mentre che c'era Santa Mamma lo so con tutta la buona intenzione mia mamma era da fianco che aspettava con il biberon che faceva così diceva dai che è pronto non farlo piano perché non hai latte lui no mi diceva lascia lascia vai attaccare la tetta no sarebbe bellissimo se tutte le mamma si sintessero così gratificate invece l'esperienza della maggior parte delle mamma è quella di ricevere tanta critica e pochi aiuti veri bella questa immagine del circolo virtuoso me la porterò con me eh Francesca perché allora è tutto un circolo no se io mi sento attaccata del marito allora io inizio a essere arrabbiata il marito si allontana di me perché ripeto quando si allontana di me si allontana automaticamente del bambino perché ripeto l'amore del padre passa attraverso la donna ok e primi anni di vita dopo ognuno poi si crea il rapporto con il proprio bambino e allora che succede che anche noi dobbiamo essere consapevoli delle nostre emozioni per poter non attaccare parlare in modo costruttivo con il proprio marito magari su cose che non riesce a capire che non riesce a comprendere di quello che tu stai vivendo quindi sì purtroppo è così io i giochi li costruisco così vai Raffaella devi vendere tanti tanti giochi fai fare le fascia fai fare i bambolotti con non so che non so io fai delle cose così Ignacio un altro papà Ignacio De Stefano oh io sono contentissima allora ciao sono il papà di una meravigliosa piccola di quasi due anni e mezzo sono super apprensivo io spero di darmi darmi a lei in qualità da ciò che recibo da Viola sembrerebbe così ma temo sempre da non essere mai abbastanza la qualità vince sulla quantità del tempo giusto Rossi no Ignacio questo è un'altra cosa però in caso del lavoro ci sta che la qualità vince sulla quantità però ci tengo a dire non voglio far sentire in colpa nessuno ma il bambino ha bisogno di quantità e qualità ci sono genitori separati che non creo che è il tuo caso Ignacio non lo so ci sono genitori separati purtroppo io dico purtroppo perché spesso c'è anche situazioni dove il papà vuole donarsi veramente e vede poco al proprio bambino però quando tu devi stare con tua figlia mettele tutta la qualità che hai questo assolutamente sì in caso di mancanza di quantità di tempo diamo la qualità ma la qualità è importante quindi il bambino ha bisogno di tempo di quantità in qualità però vabbè se fa quello che se può comunque grazie Ignacio che sei anche qua che bello Fabio saluda Ignacio sono contentissima perché anche nel family training c'è un pubblico di maschi abbastanza presente e le mamma contentissime perché si sentono molto fortunate di fare il percorso insieme io la prima cosa che ho guardato quando aspettavo il bimbo erano i panolini lavabili e ho letto commenti sotto un articolo perché amo il flamme non ho capito cos'è il flamme anche il mio mi ha aiutato molto con l'allattamento mi mette la lavastoviglia non ti aiuta è parte del suo lavoro Francesca però vabbè è lo stesso Rossi quanto avrei iniziato nelle tue parole Francesca vuole il mio come te capisco anche per me è stato molto difficile lattare nei primi tre mesi stavo per molare poi ho trovato una consulente che mi ha aiutata soprattutto a convogliere il mio marito nel modo giusto e insieme siamo riusciti è vero una delle mie fatiche è quello di parlare con il marito se invece del circolo virtuoso si controiscono il circolo vicioso arriva la rottura e spesso non si ha nessuna consapevolezza di questo esatto Francesca perché purtroppo quando ci mettiamo ci mettiamo insieme ci mettiamo insieme tirati per una trazione sessuale che è molto importante secondo me però che sappiamo che non è sufficiente quindi quando finisce questa trazione sessuale dopo dobbiamo mettere quelli accordi o quella situazione che ci dobbiamo affrontare che questo non è sufficiente ecco dobbiamo affrontare che non è sufficiente proprio la trazione sessuale per sentire che sia l'unica cosa importante ok sì tutti i miei video rimangono registrati questo sulla pagina poi le masterclass gratuita rimangono solo per 15-20 giorni poi dopo vanno via perché sono parte solitamente sono sempre parte del family training però dovete andare a scrivere perché le masterclass saranno pienissime di informazioni su quello che è il percorso dei due mesi di accompagnamento genitoriale che si chiama capire i bambini per educarne la calma vi invito a scrivere perché rimangono sono posti limitati ancora ci sono posti però già le iscrizioni sono iniziati e siamo a un buon numero Jessica ah il flame quando tra i commenti litigano la guerra tra i lavabili e l'ossigetta ah ok non lo so non so che cosa comunque si poi dopo questi video sono cargati sul mio canale youtube educazione rispettosa che vi invito a scrivervi in modo che così vedete a volte sono indietro con cargare i video ma trovate tutto su questa pagina e anche quelli vecchi anche quei video vecchi che sono sempre di argomenti venerdì sempre porterò un argomento a settembre inizierò a invitare le persone perché mi piace anche portare la gente che porta l'educazione rispettosa o la disciplina dolce o quello che è l'educazione empatica tutto quello che mette nel centro il benessere del bambino perché noi sicuramente professionista di questo campo vogliamo e sogniamo con un mondo una società più empatica più amorevole e si fa solo trattando bene i bambini anche io devo dire che mio marito a me è stato vicino sia fisicamente che psicologicamente con entrambi i figli soprattutto quando il primo è stato un grande motivatore e al resto tutto più semplice di gestire onestamente abbiamo più difficoltà ora che i nostri cuccioli hanno 7-9 anni non sempre la pensiamo nello stesso modo trovare l'equivo è più difficile vabbè purtroppo non è che veniamo dei due in un mondo diversi ogni famiglia ha un mondo diverso tu un marito viene da una famiglia e tu di un'altra quindi metterci in linea è difficile ma l'importante è la comunicazione comunicate parlate fate il codice familiare mettetevi lì dire guarda io credo che questo è importante io ci tengo questa cosa tua cosa ci tiene dai allora parliamo parlate il più che potete perché è importantissimo grazie Rossi io sono in estrema difficoltà mi sento supportata delle tue parola e non mi sento sola non sono sbagliata io grazie Tessara per essere qui grazie davvero per la vostra presenza anche se è venerdì d'agosto che solitamente la gente è al mare o a fare qualche giro in bicicletta aspetta che voglio leggere a Fabio a volte mio figlio Luca mi dà certi schiaffi e mi caccia via mi viene da ridere e ci rimango male è la stessa sensazione di quando è nato però è bellissimo rimani male Fabio perché ti senti cacciato fuori quindi ma è una cosa che è una cosa nostra lui si te caccia fuori perché ti fa capire che vuole la mamma in questo caso quindi come ho detto prima il ruolo del padre è molto importante sì ma attenzione il ruolo del padre non deve essere per forza che obbligare il bambino a stare con il padre se il bambino in questo momento vuole la mamma è essere da mamma e si arriva un momento che dopo tre anni la mamma inizia a essere un pochettino come si chiama intermittente che va e viene inizia a creare si iniziano a creare belli legami con l'altro genitore quindi io sono una nonna ti ascolto molto volentieri e le onore ah che bello una nonna sei bravissima io sono una nonna mia figlia te segue tanto bene sono contenta c'è una nonna e una figlia che bello grazie Agatha hola ah ok non ci mancherebbe grazie no no tranquillo tu allora Fabio per poter conquistare io sempre dico che il legame che esiste fra una mamma e un figlio è quasi automatico perché è proprio una cosa viscerale no quello del papà con il figlio è una cosa che tu devi costruire devi conquistare ogni giorno con il tuo piccolo quindi mettete sempre per terra mettete lì a vederlo giocare mettete lì sempre sempre se tu puoi metterti per terra e aspettare che lui venga da te allora a giocare con te a esplorare con te ricordate che il padre porta al bambino a un mondo diverso da quello che è la madre il padre si occupa proprio a portare al bambino a conoscere il mondo perché il mondo della madre la madre ha un suo mondo e il bambino può conoscere un altro mondo come il padre però dobbiamo dare i suoi tempi non possiamo obbligarli a stare con il padre ok in modo no arriverà tutto arriva se tutto lo conquista tutto arriva io mi ricordo che mio figlio intorno a 4 anni aveva un attaccamento con il padre bellissimo io in quel momento lì dicevo wow mi sentivo un po' anche no ok sta arrivando l'ora bellissimo e mi diceva mamma vai 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 io e papà qui e tu vai 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 mi faceva così sì sì vado vado non c'è problema guarda non c'è problema io vado però uno rimane male ma perché sono le nostre insegurezza ma in realtà uno dovrebbe dire wow sta creando legami con altre persone questa è la cosa importante ragazzi io devo andare vi invito alle 6, 7, 8 settembre 3 masterclass gratuita non dovete pagare niente dovete semplicemente iscrivervi nel newsletter entrare nel gruppo privato vedere 3 video che saranno pieni di informazione e poi dopo iscrivervi al family training che desidera farlo perché parte dal 21 settembre sono 9 settimane di accompagnamento di martellamento sono 9 settimane di informazione ma tantissima informazione e di consulenze uno a uno praticamente perché io rispondo le domande di tutte le persone che scrivono nel gruppo ok quindi grazie a voi di essere qui grazie di ascoltarmi grazie per aprire la mente e iniziare a sentire il vostro cuoricino che vi manda dei segnali e niente vi voglio un sacco di bene ma soprattutto i vostri bambini e buona educazione rispettosa ci vediamo sicuramente venerdì prossimo con un altro argomento ok ciao grazie a tutti